Buonasera, dopo il clamoroso addio che abbiamo raccontato praticamente in diretta con le dimissioni di Biden è già di fatto iniziata una strana campagna ha parlato Kamala Harris, anche se non è ancora designata e lo sarà solo dopo la convention ma conquista posizioni, stringe alleanze ed è già oggetto del bersaglio del suo contendente che ha preso la parola oggi, Vanz allora guardate chi abbiamo qui intanto saluto Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, benvenuto e bentornato fra di noi poi in studio un duello d'eccezione, sono una coppia che fa scintille Italo Bocchino, buonasera, benvenuto e Isabetta Piccolotti, collegato sempre a quella postazione dietro la vetrofania della Casa Bianca c'è Daniele Compatangelo che sorride sempre bene e qui straordinaria come Kamala, come si rimprovera Kamala Harris di fare c'è la Kamala Harris di in onda tra pochi minuti di pubblicità torniamo e commentiamo tutto ha parlato anche Nancy Pelosi ridi come Kamala grazie a tutti Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history in one term he has already yes you make laugh his honesty his integrity his commitment to his faith and his family his big heart and his love deep love of our country and I am first hand witness that every day our president Joe Biden fights for the American people and we are deeply deeply grateful for his service to our nation e con un velo di commozione anche durante questa sua prima uscita da di fatto candidata democratica sebbene ricordiamolo sempre la designazione ufficiale arriverà solo alla convention di Chicago di agosto Kamala Harris di fatto si mostra per la prima volta in corsa per la Casa Bianca è stato un discorso molto asciutto un po' commosso tutto incentrato sull'elogio del mandato di Joe Biden ma brutto un uomo d'onore cosa? no ma brutto un uomo d'onore va bene ne parliamo stasera con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana che ringraziamo per essere collegato con noi dalla redazione di Milano con l'onorevole Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verde Sinistra e con il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino ma non possiamo che cominciare collegandoci con la Casa Bianca dove non può mancare il nostro Daniele Compatangelo che ci riassume le novità di questo D-Day che ha sconvolto gli assetti americani vai esattamente qui un po' l'alba del giorno dopo Washington si è alzata in un'atmosfera surreale dopo la notizia di Biden addirittura sotto la pioggia ma vi voglio far vedere per farmi capire l'atmosfera un paio di titoli New York Times che dice Biden ha mollato e dice che a questo punto ci sarà una grande sfida tra i democratici interessante poi qui in fondo che dice che la vicepresidente Harris è stata nell'ombra per diverso tempo e improvvisamente si trova nei sottoriflettori l'ultimo invece è questo è il Washington Post che dice Biden lascia però in fondo ritroviamo la stessa cosa ecco scusate ecco dice di nuovo i democratici si trovano diciamo in una lotta intestina per capire chi sarà il vicepresidente intanto Kamala Harris questa mattina come avete fatto vedere ha parlato qui alla Casa Bianca per la prima volta non ha detto molto ed è in viaggio verso il Delaware per incontrare a distanza però perché è ancora malato di Covid il presidente Biden la cosa drammatica è però che da ieri da quando è stata data la notizia il Twitter, l'ex la Casa Bianca è muta alle mie spalle c'è l'ufficio stampa oggi è aperto ma nessuno ci dice niente non ci sanno addirittura dire quando Biden incontrerà Netanyahu a fianco a me ci sono i colleghi arrivati da Israele che seguono Netanyahu siamo stati costretti a parlare con loro anche loro dicono la stessa cosa non hanno notizia Israele, il governo israeliano ha dovuto un po' stravolgere tutto doveva il primo ministro Netanyahu avrebbe dovuto incontrare Biden Harris domani c'è il punto interrogativo di certo dicono i colleghi che invece giovedì Netanyahu andrà nel New Jersey per incontrare Trump mercoledì parlerà a Camere Unite in Parlamento ma questa è la situazione che vi ho appena spiegato per farvi capire la confusione che c'è in questo momento alla Casa Bianca però per quello che riguarda i repubblicani questa mattina c'è stata l'udienza aspetta Daniele dei repubblicani parliamo dopo torniamo da te dopo perché ora focalizziamo per entrare nel vivo e il dibattito è come se Kamala Harris fosse nata una seconda volta era nell'ombra come dice il Presidente forse questa è stata addirittura la sua forza vi racconto un dettaglio lo sapevate che la sua figlia adottiva figlia del suo marito ebreo è andata a protestare contro Gaza a raccogliere addirittura dei fondi ora tutta questa vita che era nell'ombra e ora sotto un cono e luce ce la racconta splendidamente Marta Vignieri e poi sentiamo cosa ne pensate voi Kamala Harris è figlia del Movimento per i diritti civili degli anni 60 nata a Oakland nel 64 sua madre è arrivata in California dall'India per studiare genetica il padre dalla Giamaica per lanciare una carriera da economista lei si è sempre definita semplicemente americana ma non ha mai nascosto le difficoltà incontrate da bambina dopo la separazione dei genitori a 7 anni fa da guida alla sorella piccola Maya vivevano tutte a Berkeley quartiere di San Francisco a maggioranza afroamericana ma ogni mattina un autobus la accompagnava in una scuola di infanzia per bianchi grazie al programma di trasporto urbano per favorire l'integrazione tra studenti all'università invece sceglie la Howard il collegio storico dei neri a Washington e con la laurea in legge la sua carriera decolla da procuratrice di San Francisco e procuratrice generale della California si oppone alla pena di morte e alla legge dei tre colpi promossa dall'allora senatore Biden che prevedeva l'ergastolo perché si macchiava di tre reati introduce sanzioni penali per genitori di figli che si assentano a scuola e si batte per rendere legali i matrimoni gay una battaglia che porta avanti anche in senato dove viene eletta nel 2016 ad appoggiarla c'è anche Barack Obama con cui pure negli anni precedenti aveva avuto un piccolo incidente nel 2019 partecipa alle primarie presidenziali democratiche ma le perde proprio contro Joe Biden lo aveva criticato per essersi opposto al programma di trasporto per studenti a cui aveva preso parte da bambina lui però la sceglie come vicepresidente ma oggi comincia un'altra storia e parte dall'eredità dell'uomo che le ha aperto le porte della casa bianca and I am first hand witness that every day our president Joe Biden fights for the American people and we are deeply deeply grateful for his service to our nation direttore Fontana questo ritratto di Marta Vigneri restituisce non solo il profilo di Kamala Harris ma anche gli strappi con Joe Biden nonostante i quali i due hanno diviso la casa bianca in questi tre anni che partita è quella che gioca Harris adesso? ha veramente possibilità di recuperare lo svantaggio che Biden aveva accumulato specie dopo il fallimento del dibattito rispetto a Trump o è una strada in salita? Sì che la strada sia in salita ci sono pochi dubbi è l'unica però certezza che perlomeno i democratici proveranno a combattere in questa campagna elettorale cosa che era diventata praticamente impossibile quando tutta la competizione si stava ormai concentrando sul fatto se Biden era in grado di svolgere quel ruolo quanto fosse grave la sua malattia quanto il presidente fosse ancora presente lucido e capace di guidare una superpotenza la superpotenza degli Stati Uniti quindi questo tema per fortuna si toglie di mezzo dalla campagna elettorale adesso Kamala Harris può combattere su programmi politica strategia sulle idee che questo la porti della vittoria tutti i sondaggi dicono che in questo momento è estremamente difficile anche perché deve recuperare anche molto rispetto a come è apparsa in questi anni perché se ricordate ha una biografia molto bella intensa di battaglie e quando Biden alla fine la scelse come vicepresidente si disse che Biden era un politico tradizionale un po' grigio un po' uomo dell'establishment del palazzo e Kamala Harris doveva essere l'elemento dirompente di questa vicepresidenza poi questo non è accaduto è un po' scomparsa dal dibattito pubblico la sua presenza è diventata impalpabile ora deve dimostrare se quello che è accaduto è per mancanza di leadership personalità o è frutto solo di una condizione che non glielo permetteva quindi ha diciamo nei confronti di Trump un peso enorme da sostenere e vediamo per lo meno i democratici possono almeno essere in gara che poi possano vincere in questo momento è molto complicato Allora Italo Bocchino quando abbiamo conosciuto la biografia di Vance che è diventata pubblica oggetto di discussione dopo la sua nomina a vicepresidente c'è addirittura qualche cosa che potrebbe accostarlo a Giorgia Meloni nel senso homo novus famiglia poverissima grande salto sociale e tu preferisci il profilo di Kamala o quello di Vance e di questo nuovo populismo di governo che Trump sta plasmando al posto del vecchio partito repubblicano sono due fenomeni tipici delle anomalie americane sia Kamala Harris che Vance nel senso che da un lato Trump scegliendo Vance come vice vuole parlare ad un'America ancora più profonda di quella che era riuscita a raggiungere direttamente è sempre un grande Tycoon è sempre un uomo che viene dalla New York dei grattacieli quindi doveva parlare a quel mondo dei bianchi che si sentivano cittadini di serie B che si sentono cittadini di serie B negli Stati Uniti e io credo che abbia fatto una buona operazione che Vance rappresenti un pezzo di America che non dobbiamo né sottovalutare né dobbiamo considerare con distacco perché un pezzo d'America è importante anche dal punto di vista dei valori dall'altro lato Kamala Harris rappresenta da un lato una via di fuga a ragione direttore Fontana dobbiamo capire se è solo diciamo l'uscita d'emergenza di una situazione insostenibile oppure altro in questi tre mesi e mezzo dovrà dimostrare lei ha un curriculum di tutto rispetto dal punto di vista delle sue battaglie e del suo posizionamento politico dobbiamo capire se riesce a far presa sul popolo americano perché poi bisogna ribaltare gli stati chiave non è che bisogna recuperare un punto o due nei sondaggi perché tu in America puoi prendere più voti dell'avversario poi prendi meno grandi elettori e non viene eletto presidente quindi bisogna vedere è una sorpresa dobbiamo andare a vedere quale sarà il risultato l'impatto nei confronti dell'America profonda certo c'è da dire che come vicepresidente non ha brillato c'è un partito diciamo che sicuramente è spaccato in questo momento il silenzio di Obama il silenzio fino a poco fa di Nancy Pelosi lasciano intendere che comunque ci sono delle perplessità c'è una convention comunque da tenere il 19 agosto a Chicago quindi io vedo una lunga strada e anche in salita certo siamo di fronte negli Stati Uniti come al solito a due realtà complesse Trump però ho l'impressione che abbia normalizzato i repubblicani cioè più o meno li abbia normalizzati i repubblicani lo hanno accettato sono per certi versi alcuni rassegnati a questo fenomeno completamente diciamo esterno alla politica lui Trump è un vero allievo di Berlusconi cioè un fenomeno dirompente dentro la politica e che vuole rappresentare una politica completamente diversa quindi bisogna vedere se Kamala Harris reggerà questi tre mesi e mezzo e dovrà reggerli non solo diciamo contrastando gli attacchi dei repubblicani che sono diciamo normali e prevedibili durante una corsa per le presidenziali ma anche diciamo certe tensioni all'interno del partito democratico perché insomma oggi si è registrata si è registrato l'appoggio della potentissima ex speaker della Camera Nancy Pelosi che ieri era stata silente c'è stato l'appoggio dei Clinton molti di quelli che sono indicati come suoi possibili competitor o come suoi papabili vicepresidente hanno manifestato l'appoggio però c'è tutta una parte del partito democratico americano che appunto in vista della convention di agosto vorrebbe ci fosse una una designazione dal basso del candidato che deve sfidare Trump la domanda piccolotti è intanto se a fronte della compattezza dei repubblicani quando ci si sposta dal centro-destra che definirlo sinistra non mi viene ma insomma quando ci si sposta dal centro-destra ci si balcanizza automaticamente ma il fatto che Harris debba sconfiggere in primis le resistenze all'interno del suo partito può paradossalmente renderla più forte in una campagna elettorale cioè se vince in casa può vincere anche fuori casa? Mi sembra un'interpretazione giusta io sono convinta che la rinuncia di Biden apra tutta un'altra partita cambia la campagna elettorale naturalmente è vero che sarà difficile l'esito non è scontato ma la Harris può mettere in campo alcuni elementi sia identitari sia di politiche che possono sparigliare una partita che sembrava con Biden già persa è vero che ci sono tensioni interne però ci sono anche interpretazioni che dicono attenzione Obama ed altri sono in silenzio perché non vogliono dare l'impressione che la Harris sia nominata dall'alto e quindi vogliono che invece il consenso maturi poco a poco anche lasciando che lei possa conquistare i delegati che possa convincere quelli che hanno dei dubbi ed è normale che ci siano dei dubbi perché oggettivamente la scelta è del tutto inusuale improvvisa e anche probabilmente inaspettata fino a qualche settimana fa quella di Biden di lasciare non è mai successo prima è uscito nel frattempo un dettaglio del comizio del vice presidente candidato per i repubblicani J.D. Vance un esponente repubblicano ha introdotto il comizio dicendo se perdiamo queste elezioni ci vorrà una guerra civile per salvare il paese a parte che dovevano cambiare i toni dopo l'attentato e sembrerebbe di no almeno non un'ora però come si contrasta una competizione su questi toni a Vance volevo arrivare perché la prima cosa che mi viene da dire è che innanzitutto l'argomento che Trump ha utilizzato contro Biden in tutto questo tempo cioè l'anzianità di Biden oggi è un argomento contro Trump quell'anziano nella competizione è Trump e questo si rivolta contro come un boomerang nella percezione degli americani il secondo argomento è Vance perché Vance è antiabortista e vuole il divieto d'aborto in tutti gli stati è contro il divorzio io penso di non sentire di un politico contro il divorzio da non so quanti decenni non me lo ricordo un politico contro il divorzio invece c'è e è quello candidato a fare il vicepresidente di Trump è contro poi c'è da chiedersi come faccio ad essere contro il divorzio sostenendo Trump che si è divorziato più volte come sappiamo e ha diversi figli e ha diverse mogli ma questo è un mistero della destra che anche in Italia abbiamo dovuto diverse volte accettare terzo punto è contro i matrimoni gay è contro i migranti allora la vittoria di Biden l'ultima volta si è basata su le minoranze le donne e i giovani ora la Harris che credo sarà sicuramente candidata perché lo impongono le circostanze può mobilitare questi tre settori della società e quindi può puntare a vincere come dicono anche i sondaggi perché è vero che è indietro lo vediamo il cartello 1 mentre andiamo dal direttore Fontana c'è il cartello 1 è una sintesi fatta da CNN su sei sondaggi diversi di cui uno fatto dopo l'attentato a Trump siamo lì testa a testa però contano i grandi elettori come ricordava Italo Bocchino e contavano gli stati in bilico direttore Fontana ma allora proprio la uscita di quello che hanno detto Bocchino e la Piccolotti credi alla frase di Trump che già da prima diceva sarà più facile vincere contro Kamala o c'è questo processo diciamo di obsoletizzazione che descrive Isabetta Piccolotti No naturalmente Trump lo dice ed è un elemento di propaganda elettorale io credo che non sarà più facile vincere contro Kamala Harris io credo anzi che Biden abbia fatto questa scelta troppo tardi averla fatto troppo tardi non ha permesso al Partito Democratico di fare quelle primarie coinvolgenti aperte che sarebbero state necessarie e in cui probabilmente sarebbe uscito anche un candidato diverso da questo punto di vista Kamala Harris è stata in qualche modo favorita dalla scelta di Biden è una scelta fatta tardi e quando sembra quasi impossibile trovare un altro candidato io credo che Kamala Harris abbia il primo abbia soprattutto un problema dimostrare che non è la candidata dell'establishment che è scelta da tutti i maggiorenti di partito quindi una candidata un po' di palazzo e senza anima anche perché la campagna elettorale la dovrà combattere su temi molto forti che sono i temi dell'economia del senso di esclusione di una larga parte dell'elettorato americano che nonostante le cose dal punto di vista economico non vadano così male sente fortissimo la pressione della competizione cinese dell'immigrazione e anche come dire quel senso di separazione dall'establishment delle grandi delle grandi città metropolitane insomma soprattutto dal punto di vista dei salari credo che dalla sua parte abbia il punto dei diritti civili che abbiamo visto soprattutto per quello che riguarda l'aborto che nei sondaggi pesa pesa moltissimo io penso che la scelta soprattutto di Vance e quelle parole d'ordine non siano per il partito repubblicano un problema tanto è vero che nella piattaforma della convention di Milwaukee sull'aborto erano già state fatte delle correzioni però il direttore Fontana parlava accennava alla durezza dello sconto e insomma ha evocato un contributo che è appena arrivato e che è una sintesi del discorso che J.D. Vance ha fatto nel suo comizio pubblico quello per intenderci introdotto da George Lange il senatore dell'Ohio che ha parlato di guerra civile in caso di sconfitta di Trump allora vediamo un J.D. Vance durissimo su Kamala Harris e poi commentiamo l'idea di sconfitta di nominare il democrazio perché George Soros e Barack Obama e un paio di democrazio si sono in un sforzo di e si è deciso di tirare Joe Biden non è come funziona questo è un threat alla democrazia non il repubblico che combattono per la democrazia ogni singolo giorno allora è perfetta questa appropriazione fra l'altro riguarda un po' anche l'Italia cioè il senso della destra che dice noi siamo più democratici della sinistra la sinistra sono l'elite Elisabetta Piccolotti si sente toccata da questa accusa? no si sente elite no non mi sento affatto elite anche perché la mia storia non parla affatto la lingua dell'elite io vengo da una famiglia assolutamente normale dal far west umbro dal far west umbro e penso che sia una ricostruzione di comodo lo stesso Biden sul terreno della politica interna ha fatto tantissimo per le persone diciamo più in difficoltà per quel che resta della classe operaia americana a partire dall'ampliamento dell'assicurazione sanitaria naturalmente per me che sono maggiormente di sinistra doveva fare anche di più per difendere il lavoro i salari però non c'è alcun dubbio che quello è stato un focus del partito democratico americano non è lo stesso per la destra la destra è liberista la destra è capitanata anche negli Stati Uniti da un miliardario come Trump basta arrivare a Las Vegas per vedere questa enorme torre che si chiama torre Trump che dà subito l'idea di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di un classico cioè il fatto che la destra alla fine alla stretta difende i diritti dei più ricchi e soprattutto gli interessi economici dei più ricchi perché è convinta che lasciando correre lasciando il mercato libero di svilupparsi da sé e poi con la teoria dello sgocciolamento qualcosa arrivi anche ai più deboli ma non è così come dimostrano tutti i dati tutte le analisi degli ultimi decenni e credo che anche su questo i democratici possano riprendere un percorso se mettono in campo un elemento di dialogo anche con la sinistra di Bernie Sanders di Ocasio Cortez che ho visto fare una dichiarazione a supporto della Harris subito dopo quella anzi prima di quella della Pelosi probabilmente no quella Pelosi è arrivata particolarmente in ritardo però siccome siamo particolarmente in ritardo anche noi ci sarebbe tanto ancora da dire per esempio la richiesta da parte dei repubblicani delle dimissioni di Biden con l'assioma se non è in forze per la corsa non è in forze neanche per governare il paese però prima di chiudere vorrei tornare su quanto abbiamo affrontato ieri tra l'altro con la vittima di quell'aggressione Andrea Jolie il collega della stampa aggredito da esponenti di estrema destra vicini a Casa Pound a Torino le reazioni della politica sono state diciamo di unanime condanna sull'aggressione però con 50 sfumature di nero mi verrebbe da dire nel senso che in molte dichiarazioni l'estrema destra non è stata nominata allora Bocchino le chiedo se come accade anche in occasione del 25 aprile o di altre insomma di altre circostanze in cui la posizione deve essere particolarmente netta se anche in questo caso ha riscontrato un problema nelle prese di posizioni di una parte degli esponenti di governo io ho letto delle parole nette e chiare da parte del presidente del consiglio Giorgia Meloni una condanna senza sé senza ma di qualsiasi forma di violenza del termine inaccettabile di qualsiasi forma di violenza spero che tu non sia d'accordo su altre forme di violenza io le do del lei però il tema però è con la Gruber si abitua a darci del tutto al collega perciò ho sbagliato chiedovenia siamo abituati così con la Gruber però le stavo dicendo c'è un tema di ogni volta che si parla di fascismo si condannano i totalitarismi tutti qui c'è una matrice netta di estrema destra e si condanna ogni forma di violenza non c'è forse bisogno di una parola precisa condannare ogni violenza che viene dall'estrema destra come bisogna condannare ogni violenza che viene dall'estrema sinistra quando diciamo la distinzione tra il fascismo e gli altri totalitarismi è una scelta già è una scelta sbagliata di parte c'è una bellissima risoluzione del Parlamento europeo di anni fa che equipara i due totalitarismi fascismo e comunismo rispetto ai morti fatti rispetto alle libertà negate quindi noi dobbiamo essere contro tutta la violenza contro questa violenza per quanto mi riguarda da uomo di destra io sono due volte contro perché io sono contro la violenza di tutti quando la violenza commette uno che non è di destra ma si dichiara di destra perché queste persone non hanno nulla a che vedere con la destra politica italiana con la sua storia non hanno nulla a che vedere con la destra politica italiana e con la sua storia sono persone che appartengono a dei gruppuscoli che hanno fatto delle scelte completamente diverse che non sono quelle della destra italiana e che vengono utilizzati dalla sinistra sia la sinistra politica sia la sinistra degli opinionisti sia la sinistra giornalistica per cercare di equiparare questi soggetti che sono come le tifoserie dello Stato insieme equipararli a chi governa il paese che è una cosa ben diversa telegraficamente io penso che la Meloni abbia fatto una condanna seria di questo episodio ma il discorso di Bocchino lo condivide? No non lo condivido perché Casa Pound ha avuto in passato relazioni forti con la destra politica si candidava anche all'elezione a un certo punto hanno deciso di non farlo più però ben venga che si dica che questo non appartiene anche nelle coalizioni ben venga che si dica che questo non appartiene alla destra italiana che si prendano le distanze dico però attenzione non c'è solo questa aggressione io ho un'interrogazione che costantemente aggiorno con ogni aggressione omofoba razzista e dimatrice fascista sono diventate più di dieci e lo faccio solo da poco tempo quindi qui c'è bisogno di una presa di posizione di piante e dosi che ci deve spiegare che cosa sta succedendo e perché perché c'è un clima di violenza che va fermato c'è un clima di violenza da parte dei centri sociali ma dove? non cominciamo me le nomini me le nomini questa aggressione ma fate quello che facciamo faccia l'elenco perché non ce ne attacca non c'è tempo di farlo ma volentieri quando volete torniamo qui e lo facciamo perché il direttore Fontana sta pazientemente ascoltando e noi abbiamo il super spot per cui facciamo super spot e poi andiamo la Fontana che è cassazione su queste cose quindi tra poco arriviamo eccoci qua come potete immaginare noi abbiamo continuato a dibattere durante il super spot però andrei dal direttore Fontana proprio riprendendo il filo di quanto dicevano Piccolotti e Bocchino in studio prima lei nota un escalation negli episodi di violenza in Italia negli ultimi tempi e nel caso a cosa li riconduce intanto voglio dire che quello che sto dicendo oggi adesso su Casa Pound lo direi anche se dovessimo tra un po' e speriamo di no discutere di episodi di violenza che arrivano ad esempio dai centri sociali quello che abbiamo visto è una condanna netta abbiamo anche visto e analizzato cosa è successo con Casa Pound 80 episodi di violenza in cui sono stati coinvolti quasi certamente questo movimento ha una componente violenta su cui è molto bene che il ministero degli interni faccia le sue indagini soprattutto la magistratura ma va sciolto perché ogni tanto lo si dice poi rimane lì lettera morta ma Casa Pound va sciolta io penso che i movimenti vadano sciolti se stanno fuori della legalità se dal punto di vista delle indagini e dal punto di vista di cosa deciderà la magistratura se si accerta questo secondo me vanno ancora vanno anche sciolti consiglierei al governo di centrodestra proprio perché le parole sono state molto molto nette di fare un taglionetto con tutto questo fare un taglionetto serve sicuramente a costruire meglio e senza tante discussioni una cultura di governo di centrodestra dico la stessa cosa la direi se dovessimo discutere tra un po' di episodi che riguardano altri fronti dello schieramento politico e alcune sottovalutazioni che qualche volta ci sono state anche per la parte antagonista e centri sociali di questo schieramento dovremmo discutere di almeno almeno 40 minuti dopo questa bellissima produzione di Fontana purtroppo il tempo è finito ma la fortuna è che in onda torna anche domani c'è sempre Marianna domani stessa ora ringraziamo il direttore Fontana l'onorevole Piccolotti e Italo Bocchino dopodiché ci sono 100 minuti che non dovete perdere i grandi documentari di inchiesta della 7 questa è l'inchiesta che si intitola Anatomia di un truffatore grande reportaggio di Sebastiano Pulisano Corato Formiglia Alberto Nerazzini e Gian Gaetano Bellavia una storia che sembra un film noi ci vediamo domani